Di nuovo in onda con la nostra rassegna stampa terza parte ci siamo fermati poco fa mentre parlavamo della visita di Obama al Papa e diamo l'ultimo aggiornamento live prendiamo spunto dalla notizia battuta dal sito di Rai News 24 in cui vediamo questa immagine di Obama e Renzi. Dopo oltre due ore al Quirinale per il colloquio e la colazione con il capo dello Stato Giorgio Napolitano il presidente Obama è arrivato a Villa Madama dove è stato accolto dal premier Matteo Renzi. Una stretta di mano dopo aver passato in rassegna il picchetto d'onore dei lanceri di Montebello Renzi e Obama hanno poi raggiunto l'interno della sede di rappresentanza del ministero degli esteri per un colloquio accanto a loro il segretario di Stato John Kerry e il ministro degli esteri Federica Mogherini al termine del quale terranno una conferenza stampa congiunta. L'effetto Obama però si è ripercosso pesantemente sulla città capitolina andiamo a dare un'occhiata proprio a quanto accaduto circolazione paralizzata sulla via Cristoforo Colombo in direzione di Roma nell'ora di punta. Il traffico dei pendolari ha raggiunto i 10 chilometri di coda con le auto costrette a procedere a passo Duomo in via di Casalpalocco fino a via di Malafede. Tra gli automobilisti collegati ai social network c'è chi ha sottolineato che per coprire quella distanza ha impiegato anche un'ora di tempo. A causare i pesanti rallentamenti a giudizio ananime sarebbe stato il concorso tra le due diverse cause. Da una parte l'assenza dei vigili del gruppo intervento traffico a regolare i tempi dei semafori e dall'altra la crescente sfiducia nei pendolari nei confronti della ferrovia Roma Lido alle prese con gravi disservizi che provocano il frequente annullamento delle corsie del mattino. La sensazione generale è che gli agenti della polizia municipale solitamente impegnati agli incroci della Colombo siano stati dirottati al centro per agevolare il transito del corteo diplomatico al seguito del presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Qualche rallentamento è stato provocato anche all'altezza del chilometro 17 per la presenza di un incidente sulla corsia opposta in direzione Ostia. I curiosi che rallentavano in corrispondenza con il sinistro sono stati all'origine di accodamenti che hanno avuto ulteriori conseguenze sulla circolazione. Quindi una mattinata di ordinaria passione per i pendolari capitolini. Per quanto riguarda Roma dobbiamo commentare una notizia di cronaca che è accaduta quest'oggi. Prima si è barricato per due ore in casa gettando dal balcone per strada mobili e altri oggetti e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È successo verso le 6.30 in via dei giornalisti 68 a Montemario dove l'uomo abitava con la famiglia. Alla base del gesto sembrerebbe ci sia la fine di una storia sentimentale. Si chiamava Alessandro Trotta, è morto intorno alle 8.15 all'ospedale Gemelli in seguito ai traumi riportati dalla caduta. Sono gli agenti del commissariato Prati ad occuparsi del suicidio, un gesto terribile e plateale al quale hanno assistito anche decine di residenti. Ho sentito delle grida, racconta un vicino, ed ho visto quell'uomo che gridava a frasi sconnesse e diceva che era colpa del lamianto e che voleva parlare con Papa Francesco. Intanto gettava in strada tutto l'arredo dell'abitazione, mobili, fotografie incorniciate, i piatti e il televisore. In pochi minuti sul manto stradale si è formato un cumulo di roba impressionante e alcune auto sono state danneggiate dagli oggetti che quell'uomo gettava dalla finestra. Alessandro Trotta ha gridato frasi sconnesse, diceva di essere ammalato. Poi sono intervenuti alcuni equipaggi delle volanti e l'uomo si è barricato in casa. C'è stato un tentativo di trattativa, gli agenti hanno cercato di convincerlo ad aprire la porta di casa senza riuscirci. Poi Alessandro si è gettato dalla finestra al secondo piano. È stato subito soccorso dal personale di un'ambulanza che l'ha trasportato al policlinico sulla Pineta Sacchetti dove è morto poco dopo il ricovero. Via dei giornalisti è una strada a ferro di cavallo con una sola uscita. La roba gettata dalla finestra dal suicida ha impedito a decine di famiglie di lasciare le abitazioni. Impossibile passare con le auto e i motorini. Ancora mio fratello non aveva mai dato segni di squilibrio, ha detto la sorella uscendo dal palazzo. Fino a una settimana fa quando sono arrivati i primi segnali non parlava quasi più. Diceva che era per colpa di una ragazza. Poi stamattina questo raptus che non mi so spiegare. Nei prossimi giorni sulla salma dell'uomo sarà effettuata l'autopsia. Gli agenti del commissariato Prati stanno cercando di capire cosa abbia spinto il 39enne a togliersi la vita. Infine qualche residente ha sottolineato un presunto ritardo dei soccorsi. Quell'uomo per quasi due ore ha dato in escandescenze. Forse era possibile mettere sotto la finestra un telone gonfiabile e cercare in questo modo di salvargli la vita. Per cui questo è accaduto in mattinata e ve lo abbiamo riportato. Tasi più alta sulle seconde case. Intanto titola ancora il messaggero per le prime all'ipota minima. Questo ovviamente riguarda la sfera economica della capitale alle prese con un riordino delle imposte per far quadrare i conti. Una tasi leggera quindi sulle prime case potrebbe essere l'inizio. La proposta dell'assessore al bilancio Morgante punta su un'aliquota bassa al 2 per mille al di sotto di quello che era stato visto come il limite minimo di partenza 2 e mezzo. Questa scelta di tutelare i proprietari delle prime abitazioni potrebbe però avere ricadute sull'aliquota delle seconde case che potrebbe arrivare all'11,4 per mille. Lo schema dell'assessore al bilancio dovrà ora passare al vaglio della giunta e del consiglio comunale. Soprattutto dovrà incastrarsi con le difficoltà causate da uno squilibrio di bilancio che tra 2012 e 2014 vale circa 1,2 miliardi di euro. La tasi, tassa sui servizi indivisibili, di fatto ha preso il posto dell'Imu e in parte è dovuta anche dall'affittuario. Il governo Letta aveva indicato come aliquota massima il 2,5 per mille con un possibile aumento dello 0,8 per mille a discrezione dei comuni per le detrazioni. Quello 0,8 quindi può essere spalmato sulle prime case o sulle seconde per le quali l'aliquota di partenza è 10,6 per mille. E quindi si sta cercando di riorganizzare il tutto nella capitale per consegnare ai cittadini una risposta certa. Al momento se passerà la proposta della Morgante possiamo dire che non ci sarà una stangata per i cittadini o almeno non sarà così forte come nella misura che sembrava essere prevista inizialmente sulle prime case ma soltanto quindi sulle seconde. Per quanto riguarda le prime abitazioni il Comune di Roma ogni 0,1 per mille di aliquota vale circa 18 milioni di euro. E quindi in queste ore sul tavolo dell'assessore ma anche su quello degli altri esponenti della maggioranza a partire dal Presidente della Commissione Bilancio stanno girando le simulazioni preparate dagli uffici, simulazioni che spiegano quanto andrà a incidere la tasi in base all'aliquota applicata. Per cui con questi calcoli previsionali si riuscirà ad intervenire in maniera concreta e sicura per dare una risposta importante ai cittadini di Roma. Cambiamo argomento e parliamo di una notizia che ci arriva da Latina. Andiamo nel dettaglio anche con un'immagine a mostrarvi il circuito il Sagittario. Ebbene volge al termine l'inchiesta sul circuito internazionale di Latina a seguito della morte del pilota Doriano Romboni per un incidente durante il Sitch Day dedicato a Simoncelli, il pilota di MotoGP scomparso. L'iniziativa si è tenuta lo scorso anno, ricordiamo, il circuito era stato posto sotto sequestro per tutti gli accertamenti sulle norme di sicurezza. A seguito delle dovute indagini della magistratura e dell'esito dell'inchiesta è stato di nuovo dato il via libera alle attività. Siamo molto soddisfatti di questa riapertura, ha dichiarato Marco Interrante, direttore della Scuola Italiana di Guida Sicura Sportiva che effettua corsi nel circuito e del fatto che la magistratura abbia fatto il corso dovuto facendo piena chiarezza sugli eventi del tragico incidente accaduto lo scorso marzo. Per noi è importante poter riprendere le attività, i corsi di guida sicura e sportiva e tutte le esperienze di pilotaggio. Aspettiamo tutti gli appassionati della guida al Sagittario, così ha parlato Marco Interrante. Con questa comunicazione ci fermiamo ancora una volta, andiamo in pubblicità e al rientro ci dedicheremo alle notizie provenienti da Pomezia, Ardea e dintorni. Non cambiate canale.